ora buon cambio di campo per Monti che prova a mettere a terra l'inserimento di Franciosi che parte circondato da tre, ancora Franciosi, serie di finte, va dentro Monti, attenzione alla palla e buona, Mujesan è il vantaggio dell'Unione, Mujesan lui che ci teneva tantissimo, settimo minuto, posizione regolare, tutto buono 1-0 Triestina la carica della Furlan, la carica di Mujesan che sentiva questa gara in modo particolare lui che in settimana e anche nella giornata di oggi sul piccolo aveva avuto dedicato un trafiletto dove diceva che è sempre stato un sogno indossare questa maglia e quindi Matteo Mujesan realizza dopo sette minuti il vantaggio dell'Unione Triestina punizione per Franciosi che attende qualche istante regala l'uno contro uno ad Aros, la finta rientrata con sinistro 2-0 Mujesan fa tutto da Ross Mujesan in posizione regolare le belle statuine in area San Luigi 0-2 Unione è partenza razzo di Mujesan e qui però il cioccolatino da scartare gliel'ha servito da Ross con un'azione già provata anche la settimana scorsa 2-3 volte e che solo per pochi centimetri non era arrivata alla deviazione decisiva anche di Mujesan tra l'altro Triestina comunque che è rinvigorita dai due gol si mantiene in zona d'attacco San Luigi che deve ancora svegliarsi dal doppio montante sferrato dall'Unione qui la posizione è buona prova addirittura di tacco Monti Mujesan 3-3 e dove vuole arrivare Matteo Mujesan tripletta diciannovesimo 0-3 Triestina Mujesan 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 ogni pallone che tocca si trasforma in oro